Innanzitutto, in questo scrigno dei fondi olio, vi faccio contare la decorazione. È uno di quei lacetti della decorazione originale, stata recuperata dal recente restauro, dei Kimi. Vedete? Si ispirano alle tanzie, linee, non so se di qualcuno di voi c'è mai stato, delle sacristie del Buomo di Firenze, fatte da Brunelleschi. Ma ci sono citazioni dal Quattrocento, la famosa mappa della Catena, una visione antica di Firenze, e poi la mappa della Toscana con segnante le sedi della Cassa Municipale. Anche la mostra di Porta, con un'altra partezzeria.